Consiglio comunale a porte chiusi ad Arezzo per la discussione delle interrogazioni presentate dalla minoranza sul nome del pistoiese Alberto Lapenna nel CDA di Nuove Acque proposto dal sindaco Alessandro Ghinelli. Sotto gli occhi increduli di cittadini e giornalisti il presidente del Consiglio comunale Alessio Mattesini basandosi sul regolamento ha fatto uscire tutti dall'aula. L'audio della seduta è rimasto comunque in parte aperto. Un precedente che a memoria Duomo non era mai accaduto tanto più che Alberto Lapenna è consigliere comunale di Montecatini dirigente del partito di forza Italia di Pistoia quindi personaggio pubblico a tutti gli effetti. A portare la questione in Consiglio comunale sono state le minoranze quindi Arezzo in Comune, il PD e il Movimento 5 Stelle. Una figura completamente slegata da Arezzo da tutti i punti di vista, un curriculum che non ha niente a che fare col servizio idrico. Il compenso, l'amministrazione precedente, io lo voglio ricordare, si è decurtata del 30% la propria indennità. L'attuale amministrazione comunale mette un proprio rappresentante in un CDA proponendo l'aumento dell'indennità, cioè un aumento dei costi della politica. Una cosa che si era mai verificata e che testimonia la deriva di questa amministrazione. Questa nomina non ci pare opportuno né per le competenze del signor Lapenna né nemmeno per il rispetto che dovrebbe avere il nostro sindaco per i cittadini di Arezzo. Non ha senso, si stava parlando di cose pubbliche, per quale motivo abbiamo allontanato le persone? Cioè era una cosa pubblica, forse perché dovevano nascondere il motivo, le motivazioni per cui è stato nominato un personaggio che non è di Arezzo. Tra l'altro è stato anche detto che è una persona che ha privatizzato, esperto per la privatizzazione delle acque. Il presidente del consiglio comunale Alessio Mattesini ha diffuso una breve nota sull'accaduto anche perché nel comunicato stampa dell'ente riguardante le interrogazioni non era minimamente citato. Nessuna segretezza, afferma Mattesini, i verbali dei consigli comunali sono pubblici compreso quello di stamani. Il consiglio comunale è poi ripreso in seduta aperta ma non senza un po' di imbarazzo. Il sindaco Ghinelli intanto risponde per tutti. Sono stati fatti anche dei paragoni tra gli stipendi che corrono in società partecipate e quello che era stato richiesto per il consigliere di nuove acque e la caratura professionale di coloro che prendono questi stipendi e quella di Alberto Lapenna. Quindi questioni personali legate al rapporto qualità personale e impegno economico che è giusto che non siano poste nelle orecchie di tutti ma di tutta la componente politica rappresentativa dell'intera città che è il consiglio comunale. Quindi io condivido la scelta fatta dal presidente del consiglio. Ed infine il sindaco chiarisce la questione riguardo l'emolumento che sarebbe stato destinato proprio ad Alberto Lapenna. È stato richiesto un aumento a 16.000 euro quindi praticamente il doppio rispetto a quello che erano 8.000 euro che la carica di vicepresidente comportava. Va subito detto che questo aumento di emolumento richiesto e non ottenuto non avrebbe comunque inciso sulle tariffe perché non va a incidere sulla tariffa. Era una richiesta per sottolineare l'importanza che anche la vicepresidenza ha in un organismo complesso come Nove Acque. Dove è bene ribadirlo il management e la governance sono in mano al socio privato. Cioè la parte pubblica con il suo consiglio di amministrazione esercita un'operazione di indirizzo politico ma di fatto poi chi è che gestisce e chi è che fa la politica vera è il socio privato.